Buon salve a tutti, oggi siamo tornati con una nuova reaction, ovvero reaction all'ultimo video di Vivo nel Tubo Per chi non lo conosce ho già fatto un altro video su di lui, sulle sue animazioni di youtubers barra streamer Se riesco metto il link nelle schede, se no ve l'andate a cercare voi La reaction che andiamo a fare quest'oggi è la reaction all'animazione sul Cerbero Podcast Ed è la prima parte, cioè ne uscirà pure un altro e non vedo l'ora che uscirà Questo è uno degli ultimi video usciti, freschissimi, non vedo l'ora di guardarlo Ok, già che ha riprodotto l'intro, è stupendo Questo è il boss Ma che c***o Fino a curarsi Flame Fare un burger kinghino Questo Quella è Tutubi Non faccio mai ma questa live la farò in pigiama Ma è fatto benissimo Straordinaria Marra Il capo è lui La maglia di Marra è bellissima, con la Mona Lisa con gli occhi da sole Sono fatti benissimo, uguali Lo studio uguale Un bene prezioso Le donne non si stuprano Ecco E questo è il suo rivale Joker Ma che è Joker? Ehm, ciao comunque Joker Bellate ragazzi, ben ritornati da vostro Joker Siamo Siamo qui a Joker Cioè ma che è? Il testosterone domina la scena Bellissimo Allora Non inizio dicendovi Non volevo fare questo video ragazzi Perché c***o c'entra? Facciamo così Se questo video Raggiunge subitissimo Il 50.000 mi piace Chissà se raggiungerà sto video Il 50.000 mi piace Basta Basta Potrebbe essere una challenge con i miei amici Bellissimo Guardiamo bene questo video È fatto misto da immagini reali Misto da animazioni Cioè è fatto benissimo Lo adoro Basta amico mio La challenge con la mia ragazza Potrebbe essere un vlog Che non ce l'ha più la ragazza Perfetto Scusate Allora Quando ho aperto La porta della Cerbero House Stamattina Mi sono visto questo bellissimo goblin No Ho detto Ecco Pilipo Pilipo Ma non si sente Pilipo Pilipo Ma prima si sentiva È una cosa molto strana questa E ora provvederò a rimuoverlo Ottimo Ottimo Mentre Simone Adesso sistemerà i problemi di audio Sicuramente Riavvia il telefono Guarda Devo semplicemente capire Se metto come dispositivo di uscita La scheda audio Ma che cazzo Che stai a fa Tu dubbi Ma che stai a fa Bella madonna Mo sta hackerando il sistema E l'audio Ne creiamo uno in più Magari veicoliamo Allora Possiamo mettere un doppio audio Come avevamo fatto con quello tuo Quando stavi a casa Che lei entra Che lei entra E casomai mettiamo il nick vicino Dal tuo Perfetto Perfetto Eh no Però non lo sentono nemmeno loro Perché Eh vabbè Ciao Sì Perfetto Perfetto Grazie Simone Quindi Dopo questo sprologo Guarda io fa una domanda È arrivato il momento del flame Vai le cazzatine di flame Ecco una siga Non può mai mancare Che E cosa ne pensi Dell'LGBT Ma sti cazzi Gialluno Vi lascio fare tranquillamente Vai Simone Ma perché Vai Simone Ok Sentiamola Faccio un'altra domanda Mentre che apro tutto Faccio un'altra domanda Madonna Ha dato uno schiaffo Assurdo Lo rivediamo Fabio Faccio un'altra domanda Madonna Fatto di fallare Ma che volevo dire Ah sì Fammi finire la cosa Che ho iniziato Ma sentiamo Quando tu hai iniziato No Quando è che Sei passato a robe Più di intrattenimento Piuttosto che al gaming Tante volte Ok Ci porto miliardi di video Ah E infatti Beh Non cresci Dai Allora Marra che ne pensi Da un certo punto di vista È una situazione anomala Perché si mischia La professionalità Con la vita Mi piace questo discorso Anche un po' Che filosofia Marra Appunto Vorrei sapere Dov'è il limite Cioè C'è stato un momento In cui tu ti sei reso conto Ho dato troppo Lo status Non è che ti dà Un qualcosa che tu Il 90% In tutto ciò Flame sta fumando Che è una meraviglia Ho tolto troppo la meraviglia L'attività Un pochino A favore della vita sociale Ma poi una domanda Anno L'altro microfono lì E utilizza quel microfono Il signor Marra A Marra Ma che stai a far Loro si sentono padroni Di gestione iniziale E poi ci sia Io da un certo punto di vista Lo capisco Aspetta un attimo Ecco E quindi quando Truman Si ribella Il pubblico si incazza L'hai visto Truman Show? No No Lo sapevo Cioè guarda Un po' sorride Scusate Però sta in campana Mi è impazzito Il trucco che sta dalla testa Il boss Si ritrova in acque Sempre più pericolose Il maschio alfa Non se lo deve dire da solo E beh mi sembra ovvio Continuamente messo in discussione È stato raccomandato Greve Viene anche per un minuto Posso chiedere di non imbrattare I fogli lavorativi No Era che simbolizza Simboleggia la mia libertà Ma che sta a far Io ti querelo Bellissimo Sono il capo E sono infurfuriato No dai Greve Fare arena Ma perché La facciamo sempre Sangue chiama sangue Ragazzi So che vuoi del sangue Mi dottate in vita qua Per fai doci Cosa c'entra mo Joker Quindi Cosa succederà? Lo scopriremo nella prossima parte Fichissimo Anzi non so se c'è Una clip post No Pensavo ci fosse una clip Post crediti Come succede nei film Marvel Ma devo dire Bellissimo Io spero che nella seconda parte Metta anche Rubino Come quarta testa Del Cerbero Sarebbe top Wow Io non ho parole L'hanno riprodotto La perfezione Il Cerbero Alla perfezione 92 minuti Di applausi Mi sono abbastanza divertito Devo dire Era da tanto che non guardavo Un video bello del genere Era da tanto che non guardavo Un video simile Va bene Io spero che Questa breve reaction Vi sia piaciuta Lo volevo fare a tutti i costi Perché Appena l'ho visto ho detto Qui ci vuole una reaction Vivo nel tubo Deve essere ricordato Nella storia Ovviamente vi ricordo Di lasciare un bellissimo like Di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Di seguirmi su tutti i social Soprattutto sul canale Viola Che lì facciamo tante cose belle E noi ci vediamo Alla prossima Chissà quando Non si sa Alla prossima 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 Alla prossima